Se prendiamo in considerazione la persona più ricca in Italia è un dato di fatto che si tratta di Giovanni Ferrero, ma chi è invece la donna più ricca d'Italia? La sua identità rimane relativamente sconosciuta ed è probabile che raramente ne abbiate sentito parlare. Stiamo parlando di Massimiliana Landini Aleotti, la proprietaria del gruppo farmaceutico Menarini. Dopo la scomparsa di suo marito, Alberto Aleotti, nel 2014, Massimiliana e i suoi due figli sono entrati in possesso dell'azienda. Attualmente Menarini è la più grande società farmaceutica italiana in termini di fatturato, registrando volume d'affari di oltre 4 miliardi di euro. Alberto Aleotti assunse la direzione generale dell'azienda nel 1964 e merita il riconoscimento per averla guidata verso una crescita straordinaria, trasformandola in un colosso nel settore. Forbes stima che Massimiliana e i suoi due figli abbiano un patrimonio di oltre 7 miliardi di euro.